Le politiche sociali del piano di zona Salerno 8? Meglio commissariarle, lo chiede a voce alta il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano. La lettera è indirizzata al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Presidente, mi rivolgo a lei, scrive Maurano, quale governatore della regione Campania per porre fine ad un'augonia politica gestionale senza precedenti, al limite dell'umana pazienza. Sto parlando delle politiche sociali del piano di zona Salerno 8. Inizia così il testo appunto della missiva indirizzata al governatore De Luca. Avrà sicuramente saputo che gli assistenti sociali dell'ambito Salerno 8, scrive ancora Maurano, nonché parte del personale del piano di zona non percepiscono stipendio da mesi ormai. Avrà sicuramente letto che pure le cooperative sociali, quelle che dovrebbero erogare i servizi per conto dell'ambito S8, non vengono pagate da tempo in memore. Avrà sicuramente sentito che il piano di zona Salerno 8 giustifica tali ritardi di pagamento, i quali si ripercuotono ineluttabilmente sui servizi sociali erogati con le inadempienze dei comuni che non versano con puntualità la propria quota annuale o altri pagamenti. Quest'ultima situazione è sicuramente una concausa importante. Posso affermare con piena cognizione, visto che in qualità di consigliere comunale di Castellabate, da più di due anni segnalo il mancato passaggio di cassa tra il comune di Castellabate, ex comune capofila dell'ex piano di zona Salerno 7, e il comune di Vallo della Lucania, comune capofila del nuovo piano di zona Salerno 8. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro che dal 2013, anno del passaggio tra i due ambiti, vengono sottratti alle fasce più deboli nel silenzio e con la complicità di tutti. Quello che però non si dice, precisa Maurano, è che questa incapacità gestionale del piano di zona Salerno 8 e per questi ritardi immorali e ingiustificati dei comuni ricadono sciaguratamente sulle fasce più deboli della popolazione, anziani, disabili, minori, famiglie in difficoltà. Per tale ragione, conclude il consigliere, le chiedo in maniera sincera e scevra da qualsiasi intendo di strumentalizzazione politica di commissariare le politiche sociali del piano di zona Salerno 8 e ridare così un'organizzazione adeguata e umana ad un settore ormai allo sbando.